Episodio 1 Un salto più in là Crash, aiutami a far funzionare quest'affare Finalmente il mondo avrà uno strumento per riciclare il burro Ehi, questo non è male Ok, ok, passami il trasbutteratore Quel cosa viola Hai mai acceso qui? Ah, sì Sono tornato, Ciccini Arrendetevi a Cortex Convincici Ehi, genio, guarda che non ti sento Sono lontanissimo A bordo di un Overcraft O una roba del genere Beh, me ne occupo io Sono secoli che combatto il male Non hai neanche un corpo Aiuto Crash, aiuta Io me ne vado a fare qualche cattiveria Bye, bye Io resto qui ancora un po' Crash Per camminare o correre Sposta la levetta analogica sinistra Per saltare, premi il tasto X Premilo di nuovo mentre sei in aria Per eseguire un doppio salto Un po' diaries Un po' diario Grazie a tutti. 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 Salta con il tasto X, poi premio di nuovo, mi interessa in aria per eseguire un salto aereo. Vedi dei bandicoot? Grazie a tutti. Avviva un salto. Grazie a tutti. 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 Man trucchi. Accidentato. Ag applesa. Taiwan. Allora con la salsa. Salsa. La vittoria è garantitissima. Oh, che dentaggio! Oh, che dentaggio! Oh, che dentaggio! Grazie, Crash. I miei poteri sono inutili contro di loro. Che c'è? Dietro quelle creature c'è la magia nera. Accadono strane cose. Ma sì, lo so che non ho i piedi. Ma su, Crash, andiamo! Crash, tieni premuto il tasto R1 per usarmi come scudo contro gli attacchi nemici. Ricordati che è la mia faccia, eh. Baci piano. Ca-ha-ha! GAAH! Ooooo! sweet μια No! Crash! Premi il tasto triangolo o tienilo premuto per caricare l'attacco di ulteriore potenza. Mi hai incastrato! Prendete Crash con quel... Se riesce a scappare, si vede un franco di... Venti, vengono stupido! Devo procurare delle carte uguali! Oh, se scappa il Dottor Cortex perderà! Sono venuto! Prendiamo il Bandi! Rosichiamocelo! È buonissimo! Resta, sezioniamolo! Per tutti gli hacker! Eccolo! 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 Sempre ralsando! Non Brodicolo! Eccolo. Lo Eccolo! E' un venticulto della nostra merce! Spicchiatelo nelle regioni basse! Io mi diverto un mondo! Per tutti gli altri! No! Siete sopra! Marta! Grazie per la visione!